Tragico omicidio a Bicinicco, provincia di Udine. Una donna ha ucciso il marito durante una lite, colpendolo con un paio di forbici e gettando gli acido muriatico in faccia. Dopo l'aggressione, ha prontamente chiamato i soccorsi e confessato il crimine ai carabinieri. Successivamente, però, ha cessato di parlare e si è avvolta nel silenzio. Gli investigatori stanno cercando di comprendere la natura del legame tra la donna e la vittima. Inizialmente si era ipotizzato che i due, Stefano Iurig, 43 anni, di Bicinicco, e Silvia Comelli, 42 anni, di Reana del Royale, fossero coniugi. L'omicidio è avvenuto nella residenza di proprietà dell'uomo. La donna è stata arrestata la sera scorsa ma ha mantenuto un atteggiamento confuso, limitandosi a esprimersi in modo vago riguardo al rapporto con la vittima, definendolo un amico. Infine, ha preferito non parlare più, fino al suo trasferimento in carcere avvenuto all'alba di oggi. Tuttavia, non si esclude che tra i due ci fosse un legame sentimentale. Al momento, le motivazioni dell'omicidio rimangono sconosciute e sono al centro dell'attenzione degli investigatori del nucleo investigativo di Udine e della compagnia di Palmanova, sotto la guida del sostituto procuratore Andrea Gondolo. La casa, situata nel centro del paese friulano, è stata posta sotto sequestro.